Dopo la sconfitta in campionato contro la Roma che ha relegato il Napoli al settimo posto, il presidente del club partenopeo Aurelio De Laurentiis ha deciso di mandare la squadra in ritiro per preparare al meglio le prossime gare, il Salisburgo in Champions League e il a sabato in campionato. La ferita dell'Olimpico è quindi ancora aperta e la squadra deve riprendersi al più presto ed elaborare riflessioni su come uscire da questo periodo decisamente sotto le aspettative. Un weekend amaro dunque in cui società allenatore chiedono una scossa in un momento delicato della stagione. E Mauro Icardi l'attaccante più performante del mese di ottobre secondo l'International Center for Sports Studies. L'argentino si è distinto nei cinque principali campionati europei a suon di gol, gli ultimi quattro realizzati in tre partite di Ligan e altri tre negli impegni di Champions League. Dietro di lui Ciro Immobile, mentre sul terzo gradino del podio troviamo Willian del Chelsea. Nella graduatoria non è invece presente il bianco-nero Cristiano Ronaldo. In seguito da diversi club italiani Zlatan Ibrahimovic potrebbe tornare in Italia nella seconda parte della stagione. Tra i vari contatti intercorsi con l'agente del giocatore Mino Raiola ci sarebbe quello del Bologna. Da diverse settimane infatti Walter Sabatini starebbe sondando il terreno. L'idea sarebbe quella di proporre a Zlatan un contratto per un anno e sei mesi. La richiesta dell'entourage del giocatore fatta al Bologna per questi 18 mesi sarebbe di 8 milioni di euro. Nelle prossime settimane Fenucci e Sabatini verificheranno fino a che punto Ibrahimovic e Raiola sarebbero disposti ad abbassare le proprie pretese, anche se intuibile che non scenderanno molto sotto la cifra richiesta. Cambio in testa al ranking ATP. A un anno di distanza Rafa Nadal torna a essere il numero uno del mondo. Il tennista spagnolo supreme classifica Novak Djokovic e conquista il primato per l'ottava volta in carriera, diventando il secondo numero uno più vecchio di sempre a 33 anni. Miglio di lui ha fatto solo Federer a 36 nel 2018. Continua il momento magico di Matteo Berrettini che dopo la qualificazione alle Finals di Londra raggiunge l'ottavo posto mondiale. Fabio Fognini rimane invece stabile in dodicesima posizione. Grazie a tutti. Grazie a tutti.